porca troia puttana ma come facciamo ma come facciamo non vinciamo al Barbera da febbraio da febbraio raga è quasi un anno è quasi un anno cambiano i giocatori cambiano gli allenatori ma il risultato è sempre quello in casa al Barbera davanti sempre minimo a 23 24, oggi ce ne erano 25 1400 davanti a tali cifre il nostro Palermo è impaurito ha paura la salernità ragazzi non vinceva da un anno fuori casa e ovviamente quando è che avrebbe sfatato il proprio tabù giustamente oggi giustamente oggi perché noi abbiamo questa capacità non abbiamo capacità a sfatare i nostri tabù ma le altre ragazzi li facciamo sfatare tutti in Portaseba a destra di Akitea sinistra Lund Bania e Nicolau poi voglio capire il motivo per cui si sia vista quella spinta centrocampo con Gomez Ranocchia e Segre davanti Le Duron Di Mariano e il capitano Matteo Brunore primo tempo equilibrato loro poi la sbloccano e dopo averla sbloccata dopo averla sbloccata hanno avuto qualche occasione che ci aveva fatto capire che sì il primo tempo ce l'avevano non dominato ma meritato di esservi loro imbantato a cosa serve? a cosa serve tirare più in porta se non segni non serve a niente le statistiche ogni volta leggiamo le statistiche e a Bolzano abbiamo calciato meno abbiamo fatto tre gol oggi abbiamo calciato il doppio della Salernitana e loro hanno vinto le occasioni le abbiamo avute poche non tante ma le abbiamo avute soprattutto nel finale una è di Francesco l'altra di Verre quella è di Francesco ancora più semplice da realizzare possiamo dire fatto sta che la palla non è entrata e alla fine la Salernitana col gol di Teio su un tiro cross dell'ex Catania la Salernitana si porta a casa questi tre punti io io non so veramente cosa dire non so a cosa appellarmi la colpa è di tutti lo dicevamo l'anno scorso lo dicevo l'anno scorso fiero difendendo l'indifendibile ma dicendo che a calcio si gioca tutti insieme a calcio si è in undici in ventidue in ventitré in ventiquattro più direttori giocatori cioè allenatore preparatore tutti quando si vince merito di tutti quando si perde colpa di tutti e anche quest'anno dato il mio credo ovviamente continuano a dire determinate cose e le stesse cose ma come facciamo perché non vedo il mordente perché non vedo una squadra aggressiva una squadra che lotto una squadra che si mangia il campo davanti ai propri tifosi perché non riesco a vederla perché non riesco a vedere giocatori con la fame con la fame vera davanti a un pubblico così dovreste avere una voglia di di spaccare il mone di dimostrare di essere una piazza che chiede tanto perché giocare a Palermo purtroppo ragazzi ci vogliono le palle e se non hai le palle la fatichi fatichi tanto perché il pubblico ti porta qua ma quando le cose non vanno male siamo i primissimi a portar giù tutti e noi non riusciamo non riusciamo ancora una volta anche quest'oggi contro la sernitana che è vero che è scesa dalla serie B dalla serie A l'anno scorso quello che vogliamo ma con una sernitana che non vinceva in trasferta da un anno e che non aveva di certo cominciato benissimo questo campionato non che non l'avessimo fatto meglio ma comunque eravamo la migliore difesa del campionato dalla scorsa giornata in trasferta eravamo primi nelle ultime giornate eravamo una di quelle che aveva fatto meglio e oggi cadi così ancora in casa per l'ennesima volta davanti al pubblico quando fa più male perché dopo che vinci 3 a 1 porca puttana in trasferta provando a convincere poi cadi in casa ancora ancora ripetiamo insieme benissimo fuori male in casa troviamo la quadra mister in una partita dove la perdi in casa 1 a 0 perché non mi metti dentro la doppia punta perché non provi il tutto per tutto cosa cambia qualcosa tra perdere 2 a 0 e pareggiarla a me ne frega un cazzo e prendiamo un altro gol in ripartenza perché siamo tutti avanti ma vogliamo vedere quello è vero che abbiamo creato quando è entrato Henry al posto di Mattia abbiamo creato ancora perché lui fa la torre di testa su di Francesco in primis ma ragazzi c'è da usare di più c'è da usarti più in dei momenti dedicati come questi dove ti basta una giocata una spizzata di testa e te lo dentro l'unico attaccante prolifico che abbiamo avuto negli ultimi anni lasciamolo dentro e invece no ragazzi invece no non si osa e non si pareggia la partita e la Sanitana meritatamente si porta si porta a casa questi tre punti noi continuiamo il nostro il nostro calvario il nostro calvario io raga vi chiedo ancora un mi piace se non l'ho ancora fatto un commento ditemi la vostra sulla partita io sono sono veramente a pezzi speravo in una domenica diversa purtroppo non è andata come mi aspettavo mi raccomando iscrivetevi al canale su Instagram mi trovate sotto con l'ispa quindi seguitemi anche lì io veramente più ci penso raga più non mi capacito non mi capacito come facciamo da otto mesi a questa parte a non vincere una fottutissima partita in casa davanti al nostro pubblico come facciamo come facciamo come si fa perché dobbiamo soffrire così tanto quando la troveremo la quadra cosa serve un cambio di modulo quando giochiamo in casa meno pressione stadio vuoto chiudiamo lo stadio non li facciamo venire tifosi evitiamo di entrare allo stadio tutti noi giocare senza pubblico no il pubblico c'è e il pubblico vi serve a questo il pubblico vi serve a dar di più ma quel di più dovete darlo non si può far finta di niente non si può cullarsi da un pubblico che ti ama che ti sostiene sempre basta no c'è da tirar fuori le palle ma tutti non soltanto i giocatori tutti perché bastano basta le solite paroline basta le solite frasi scritte frasi fatte servono i fatti quindi tiriamo fuori le palle adesso si mette una piccola pausa si torna poi a noi le pause non ci piacciono si torna poi in trasferta contro il Modena se non sbaglio il 19 e poi si torna in casa e poi si va a Mantua vi prego vi prego basta stagonia non ne possiamo più non possiamo continuare a fare queste figuracce in casa vi prego sempre e solo sempre e solo forza Palermo ditemi la vostra con un commento raga vi voglio bene buona buona serata a tutti ok Grazie.